eccoci sono in compagnia della signora maria che ha appena acquistato la sua abitazione chiedo a lei come si è trovata con il servizio offerto dallo studio elena rughetto compra vendita immobiliare molto bene molto che ti è molto da venire incontro quindi ho risposto a tutte le sue domande ma tutte le sue necessità abbiamo preso visione dell'immobile abbiamo verificato tutta la documentazione e abbiamo verificato anche tutto l'aspetto condominiale quindi siamo arrivati al lato notarile serenamente senza benissimo quindi io non posso che augurarle una sua nuova abitazione e mi consiglierebbe comunque persone che conosce sì senz'altro bene già detto qualcuno che sia ora bene grazie signora maria grazie mille arrivederci bene siamo qui dal notario dove i signori brivio hanno venduto alla signora maria e il loro appartamento chiedo a loro come si sono trovati con lo studio elena rughetto compra vendite immobiliari tutto bene avete ricevuto tutte le risposte siete stati contenti è andato tutto abbiamo fatto tutto bene veloci anche devo dire che è andato tutto bene perfetto quindi contenti bene allora buona continuazione grazie